Il Sud Festival è il festival più bello del mondo perché è il primo festival in cui ho presentato il mio film ed è un festival che coinvolge l'intera città. Questa è una cosa bellissima, qui c'è la sala piena di ragazzi che guardano film su Primo Levi e questa è una cosa che mi fa veramente molto molto piacere, mi mette molta gioia perché le sale devono essere riscoperte dopo quello che è successo e questo festival aiuta anche a fare questo, è veramente un festival bellissimo a cui sono molto molto legato.